L'Aula della Camera ha approvato all'unanimità diverse mozioni che impegnano il Governo a rendere efficace la lotta alla contraffazione e alla illegalità economica. Un voto molto importante, sottolinea il deputato del Carroccio Alessandro Montagnoli. È una battaglia importante, storica della Lega, quella contro i falsi, soprattutto proveniente da paesi dell'est e della Cina. E ieri l'Aula di Montecitorio ha approvato la nostra mozione che va a difendere le nostre produzioni, la nostra qualità, le nostre imprese. La Lega che sempre dalla parte, soprattutto delle piccole e medie imprese, siamo consci che è una battaglia difficile, importante, lunga, ma noi continueremo all'interno del nostro paese a livello europeo, perché questo lo dobbiamo alle nostre imprese, alle nostre lavoratori, alle nostre agenti. Il tema della contraffazione continua Montagnoli è rilevante non solo per i danni che produce le imprese regolari e per i potenziali danni alla salute dei consumatori, ma anche perché è un fenomeno di illegalità diffusa che consente la circolazione di contante in quantità spropositate e incontrollato. È evidente che quello che si vede tutti i giorni nelle nostre realtà, che si leggono anche dai giornali, una concorrenza sleale, prodotti contraffatti, marchi contraffatti e il danno delle aziende da un lato, ma anche dei consumatori che non hanno materiale di qualità e noi puntiamo a questo, difendere la nostra storia, la nostra cultura. Teniamo conto che in Veneto, in Italia, c'è il 95% dei piccoli e medie imprese che vivono di qualità e noi le vogliamo difendere a tutti i costi e chiediamo che l'Unione Europea inserisca delle sanzioni importanti e che tuteli la nostra realtà con il made in. Questa è l'unica soluzione possibile.